Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Un caloroso buongiorno a tutti i nostri ascoltatori In primo piano se principale i quotidiani sportivi La prima convocazione in azzurro di Gaetano Castrovilli La nazione Castrovilli, Sonni Azzurri Corriere dello Sport, Stadio, Il Ballo di Castro Le prestazioni del giovane talento Viola Oltre alle attenzioni del CT della Nazionale Roberto Mancini Avrebbero attirato anche quelle dell'Inter Che lo avrebbe inserito nella lista di talenti A cui dare la caccia nel mercato estivo Difficilmente però la Fiorentina cederà agli assalti di Conte Marotta Che intanto sono pronti a dare battaglia alla Juventus Per arrivare a Federico Chiesa L'esterno gigliato è il sogno di mercato dei nerazzurri Disposti a concentrare gran parte degli sforzi economici sull'operazione Base d'asta 60 milioni Per fiorentina1.com Beatrice Cancedda Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola